ATV cerca proprio te, hai 21 anni, la patente di Guida B e sei alla ricerca di un lavoro dinamico e sicuro. Diventa conducente di autobus, partecipa al corso gratuito e professionalizzante per il conseguimento delle patenti E, D e CQC organizzato da Enac Veneto. Dal 28 febbraio 2022, 400 ore di formazione d'aula, 400 ore di esperienza on the job. Candidatura entro le 13 del 18 febbraio a verona, chiocciola enacveneto.it Il tuo futuro lavorativo inizia oggi.